De Laurentiis carica la Juve, il presidente del Napoli, vincere ogni anno solo imbrogliando. I biancoreni non ci stanno, trovano così un motivo in più per battere la squadra di Mazzari, risorpassare l'Inter. Così apre tutto Juve Sport. La gazzetta interista dello sport, Juve partita tripla, Pogba, Cobb Miners per il futuro, in mezzo Chiesa e in basso Turam. Turam, sei un tesoro, amore mio bello, bello, bello. Corriere dello sport di Roma, la sentenza, Juve-Napoli sfida verità per Allegri e Mazzarri e QS, quotidiano sportivo, la partitissima di rincorsa. Tutto è focalizzato su stasera Juventus-Napoli che alle 20.45 vedranno due squadre che lottano in Napoli, ovviamente non dico all'ultima spiaggia perché è lungo il campionato, però 11 punti dall'Inter obiettivamente sono tanti. La Juve è lì, in scia, due punti dall'Inter, quindi stasera sarà sicuramente una squadra che se il Napoli dovesse perdere, veramente ciao ciao definitivamente lo scudetto, ma si complica anche poi il discorso del quarto posto. Mentre per quanto riguarda la Juve, se dovesse vincere rimane lì, ma se perde, attenzione che l'Inter domani gioca in casa con l'Udinese, potrebbe allungare ulteriormente, mentre noi andiamo in quel di Bergham. E proprio rimanendo in quel di Bergham, oggi faremo un qualcosa di nuovo, ascoltando direttamente le parole di Mister Pioli e analizzando insieme qui questa conferenza stampa del pre-Atalanta-Milan. Ma come sempre ti invito a mettere un bel like, iscrizione se ancora non l'hai fatta e iniziamo con un bel... Tribù rossonera, tribù di gente vera, buona, immacolata, concezione a tutte e a tutti e bentornata e bentornato qui oggi, 8 di dicembre, a tutti e a tutti sul canale del Marietto Milanista. Ebbene, domani partita di ferro, perché sappiamo benissimo che l'Atalanta è una squadra tosta, Gasperini è un allenatore che quando vede il Milan come si vede il toro nell'arena nella corrida, mentre con le altre sempre stende i tappettini rossi. Contro il Milan non so che cosa gli abbiamo fatto nella storia, però è sempre infoiato. Vediamo di cosa si tratta. Dunque, oggi ascoltiamo, mentre ascoltiamo le parole del Mister, intanto annunciarvi che oggi molto probabilmente cercherò di fare una live con chat dinamica aperta a tutti proprio per far sì che ognuno possa poi dire la sua, ok? Cercherò poi di mandare il link durante la live così chi vuole entrare entra, non sarà lunghissima, già ve lo dico anche perché poi a 20.45 c'è Juve Napoli e poi anche perché, parliamoci chiaro, già ve l'ho detto in questi giorni che per questioni anche familiari non posso dedicare tanto tempo così, cioè i video è una cosa, li fai, boom. Dunque, tornando a noi, conferenza stampa di Stefano Pioli. Io l'ho visto come sempre molto tranquillo, molto sereno, Mister molto educato, a differenza di Murigno che è un maleducato, è un provocatore, piuttosto che di un Simone Inzaghi che finché quando le cose vanno bene, bene quando vanno male comincia a tirar fuori scuse, piuttosto che un Allegri che devi vedere, devi saperli gestire in base al carattere, come prenderlo, fare certe domande. Invece con Stefano Pioli è sempre tranquillo perché lui è un signor allenatore, un grande professionista, il più grande professionista che c'è in questo momento ad allenare squadre italiane, a mio avviso. Poi, da un punto di vista tecnico, tattico, possiamo discutere di quello che volete, ma da un punto di vista umano, di presenza, di quello che ha portato in questi quattro anni al Milan, è il top, top, top. Allora andiamo a sentire un attimino queste parole del Mister e man mano cerchiamo di analizzarle insieme. A Atalanta Milan siamo con il nostro allenatore Stefano Pioli e la parola la diamo a Mauro Suma per Milan TV. Grazie Laura, buongiorno Mister, vigilia di Atalanta Milan. Questa stagione in fondo non è ancora arrivata a metà, è una stagione relativamente giovane, eppure dentro abbiamo avuto noi diversi momenti fino ad oggi. Per voi? Beh, io, caro Mauro Suma, più che diversi momenti, quello che è stata una grande diversi momenti di rottura di palle, proprio per mezzo di certi giornalisti o pseudo giornalisti che hanno cercato sempre di mettere il puntino dove non lo dovevano mettere, per poi creare scompiglio già tra le teste che già conosciamo, anche di coloro che si autodefiniscono milanisti. In tutti questi momenti lei non ha mai mollato la barra, non ha mai perso la bussola, e ha sempre considerato tutto aperto in campionato. E così immagino anche oggi, Mister. Sì, perché mancano ancora troppe partite per poter fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che bisogna cercare assolutamente, in campionato c'è una componente che non può mancare, che è la continuità dei risultati. E noi quello che stiamo cercando è il nostro grande obiettivo, quindi domani abbiamo un'altra grande opportunità. Ecco, l'opportunità. L'opportunità di vincere e convincere, portando avanti un filotto, come giustamente dice Stefano Pioli, di continuità che è mancato. Sì nel mese di novembre, ma nel mese di settembre abbiamo avuto, ricordiamoci, le otto partite in cui il Milan ne vinse sette, perdendo solo il derby. E lì tutti, non ci posso creare, guarda che Milan già in forma. Poi è arrivata la sosta, dove il Milan era in testa a due punti, se vi ricordate bene, a 21 e l'Inter era a 19. Prima della sosta di novembre, è arrivata la sosta di novembre e lì c'è stata la discesa verticale, con risultati altalenanti, di cui tra l'altro l'apice è stata la vittoria contro il Paris Saint-Germain 2-1, ma con lo stesso Paris poi avevamo perso 3-0 lì, e in campionato con le due sconfitte in casa, contro Juventus e Udinese, che un po' hanno segato le gambe. In Champions ci siamo autoflagellati da soli, perché fondamentalmente, se dobbiamo fare delle critiche, non possiamo appigliarci semplicemente a rigore dato al 98esimo Mbappé in PSG Newcastle. Gli errori grossolani li abbiamo fatti noi, non vincendo facendo 30 tiri in porta con Newcastle, o in casa del Borussia Dortmund, abbiamo lasciato punti per il cammino. Quindi adesso ci aggrapperemo a questa speranza Newcastle, poi dopo ne parlerà anche di questa cosa. Comunque l'importante è dare il filone, continuare dopo le ultime due vittorie in campionato in casa, Fiorentina e Frosinone, portare avanti questa scia. È l'unico modo per dare un senso e una continuità anche a questo campionato, senza sparare sentenze al 8 di dicembre, visto che ancora mancano quasi sei mesi prima della fine della stagione. Quindi, come sempre, keep calm e sempre forza mina. Vai, andiamo avanti. Perché dobbiamo dare continuità, perché bisogna fare tanti punti, perché vogliamo... L'obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro, ma vogliamo fare qualcosa di più. Ecco, l'obiettivo minimo è i primi quattro, ma vogliamo fare qualcosa di più. Tante volte io sento le voci che questa società, per loro non gliene frega niente dei trofei, l'importante è il bilancio, è l'importante che comunque poi riusciamo a centrare la Champions, non interessa lo Scudetto, non interessa la Champions. Io non credo che sia così, ragazzi. Io credo semplicemente che non esiste solo il Milan che gioca contro il muro e le pareti, ma ci sono anche altre squadre che si rinforzano e molto probabilmente hanno gli stessi nostri obiettivi. Poi alla lunga c'è chi è più forte di un altro, ma non credo che il Milan punti solo al quarto posto. Quelli sono obiettivi per squadre che sanno già che allo Scudetto non possono arrivare. L'Atalanta negli ultimi anni è stata sempre una partita bella, particolare, affascinante, negativa, in un senso negativo a volte e in un senso estremamente positivo dall'altra. Come più li colloca quest'anno l'Atalanta? Perché sembra avere, soprattutto nell'ultima parte, un momento di flessione, poi alla fine è sempre lo stesso Gasperini, sempre la stessa squadra che ha anche qualità. È una squadra che può ambire ancora, nonostante il margine di stacco, anche al quarto posto. Le partite belle, non so, difficili sì? A parte l'Atalanta, gli fai domanda sull'Atalanta io le avrei anche risposte. Ma che cazzo me ne frega se può ambire al quarto posto? Saranno stracacchi loro. Fammi domande sul Milan, no? Beh, ma io lo sai, io sono un tifoso, lui giustamente. È il mister, meno male che c'è il mister Pioli che ha più pacatezza. Sempre partiti difficili con l'Atalanta, sì sì, l'Atalanta è una squadra che sicuramente lotterà fino a fine per anni i primi quattro posti. Gasperini sta facendo, ha fatto, lo sta facendo, farà un grandissimo lavoro. È una squadra completa, è vero che nell'ultima partita ha avuto qualche difficoltà, ma è una squadra che ha qualità, che ha presenza, che ha organizzazione, che ha intensità, che ha forza fisica, che ha centrocampisti che segnano. Quindi sicuramente è una partita da affrontare nel miglior modo possibile da mettere in campo una prestazione di alto livello se vogliamo vincere. Ecco, con l'Atalanta dobbiamo mettere una prestazione di alto livello per vincere. ma lo stesso di casi con l'Udinese, con il Lecce. Cioè, ovviamente vi rendete conto che poi le conferenze stampa sono sempre abbastanza scontate, le risposte. E quindi adesso, nel bel mezzo di questo, ti faccio io la domanda per vedere se sei arrivato fino a qua. Qual è il giocatore che temi di più nell'Atalanta? Ricordando che Scamacca si è infortunato, quindi dovrebbe tornare Luis Muri al dopotempo in attacco. Ci sono altri giocatori? Fammi sapere chi è quello che più potresti temere dell'Atalanta. Andiamo avanti. La mia seconda la divido in due. Se stai seguendo un po' De Chetelare come sta andando in questa sua esperienza all'Atalanta visto che comunque un giocatore anche di proprietà nell'orbita Milan e poi il solito aggiornamento su soprattutto chi è RLA o nonostante sia l'allenamento quali sono le sensazioni degli ultimi giorni in vista di domani. quindi De Chetelare lo sto seguendo soprattutto in queste settimane per preparare la partita con l'Atalanta sta giocando in un ruolo sicuramente più più offensivo è partito molto bene a qualità sicuramente l'anno l'anno passato gli è servito a capire certe situazioni quindi sicuramente un giocatore di prospettiva questo sicuramente sì e se dovesse giocare domani è un giocatore da seguire con molta con molta attenzione per la nostra fase difensiva per le house sarà importantissimo l'allenamento di oggi ha raggiunto negli ultimi due giorni dei picchi di intensità buoni però oggi poi decideremo se venire a Bergamo o meno invece chi ha ripreso le nasse ma non ha coca la squadra il problema muscolare è superato ma deve ritrovare la condizione migliore ecco sul discorso di De Chetelare ovviamente dopo la prima giornata quando aveva fatto gol all'esordio De Chetelare e poi è tornato diciamo nella sua dimensione che poi a mio avviso e l'ho ripetuto due volte che poi che poi e poi mi viene in mente il buzzurro e poi e poi e poi ha continuato ai livelli dell'anno scorso cioè ha fatto quasi nulla sul discorso di Leao quindi io non ho nessuna sinceramente nessuna paura se devo essere onesto di De Chetelare forse è l'ultimo dei giocatori che mi dà ansia domani a meno che poi arriva quel colpo di culo tipico del colpo dell'ex però dall'altra parte sul discorso che più mi interessa di Leao e Chiaer Chiaer giustamente il mister dice è già recuperato ma non è ancora in condizione io credo che mister Pioli sa l'importanza della partita con Newcastle di mercoledì e non credo che giocatori che possono essere utili contro il Newcastle li metterà domani minimamente quindi neanche Leao Leao se lo convoca andrà in panchina ma non credo che rischierà di metterlo a meno che la partita poi possa compromettersi in chissà quale modo questa è la mia sensazione che lo tenga comunque a riposo per mercoledì perché è lì che dobbiamo tirar fuori tutto per vincere e poi ovviamente siamo nelle mani del destino di quello che succederà a Dortmund però intanto noi dobbiamo vincere vincendo sicuramente stacchiamo il pass minimo per l'Europa League e se poi il Dortmund dovesse battere il Paris Saint Germain andremo agli ottavi quindi non è neanche tutto nelle nostre mani ma sicuramente tanto dobbiamo fare per arrivare oltre l'ostacolo Rocchi Rai buongiorno Stefano buongiorno le difficoltà del momento di questa partita cioè l'Atalanta l'hai appena detto partita difficile il Milan arriva da due vittorie consecutive in campionato però poi martedì comincia l'avventura la gara di mercoledì Champions quindi una difficoltà pensare solo all'Atalanta pensare bene a fare il campionato no 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 assolutamente noi siamo concentrati sulla partita domani poi ci sarà tempo per preparare la partita di mercoledì dove abbiamo un solo obiettivo ma anche al stesso modo domani quindi siamo solamente concentrati abbiamo preparato e parlato e lavorato solamente sulla partita domani quindi non ci sono difficoltà di poter non essere pronti di poter non essere preparati per la partita domani ci sono difficoltà di affrontare una squadra forte che vorrà metterci in difficoltà ma abbiamo il nostro modo di stare in campo abbiamo le nostre qualità da mettere sul campo per tutta la partita dunque la partita di domani ovviamente non deve essere un pretesto per tanti comunque vada e poi si sta pensando a Newcastle no perché il campionato per il Milan in questo momento è proprio quella via d'uscita che serve a mettere pezze laddove non dovessimo andare avanti in Champions o qualificarsi poi dopo in Europa League quindi è importante che il Milan sia molto concentrato domani contro l'Atalanta cercando di tirar fuori il massimo della prestazione e poi con Newcastle un'altra partita anche perché ci saranno altri interpreti che torneranno quindi domani è fondamentale ti chiedo anche se cominciano a delineare i ritorni importanti Olivier Giroud era solo una squalifica però ritorna Giroud è ritornato Benasser cioè comincia ad essere a tornare il tuo Milan è chiaro che certi momenti si passano durante una stagione così impegnativa con così tanti impegni più giocatori abbiamo disposizione chiaramente giocando così tanto è meglio i recuperi sono importanti chiaro che Isma bisogna ancora di un po' di tempo per ritrovare la migliore condizione ma sta bene quindi sarà un giocatore importante per noi assolutamente il ritorno tra tutti i ritorni che abbiamo potuto avere in questo periodo anche infortuni più brevi o affaticamenti muscolari sicuramente la ciliegina sulla torta io credo il vero acquisto del Milan in questo momento della stagione che come giustamente dice il mister ci vorrà del tempo per tornare a quei ritmi a quei livelli che già conosciamo è proprio Isma Benassar Isma Benassar è il trottolino là in mezzo è la mente pensante che può dare molto più spazio anche ai tigiani reinders per poter creare piuttosto che dall'altra parte la potenza fisica ma anche tecnica dell'off to cheek avremo un centrocampo spaventoso sapendo anche che c'è Musa che è un un cane randaggio lì pronto all'uso quindi poi dopo parlerà anche di Krunic però poi un discorso che volevo affrontare comunque andiamo avanti pezzo per pezzo io avrei una curiosità su Gasperini perché comunque voi vi sfidate da vent'anni da un modena agrozone di vent'anni fa no no di più ci siamo sfidati anche nelle primavera lui allenava la primavera della Juve io allenava la primavera del Bologna quindi parecchio tanti duelle tante situazioni ecco lui allenava la primavera della Juve Gasperini e Pioli quella del Bologna capite tante cose come quando gioca con Gasperini ha dichiarato Juventino quando gioca con la Juve l'Inter forse perché l'ha allenata per quanto avesse un minimo di denta venena ma quando gioca con il Milan riescono i diavoletti dal cervello cos'è la cosa che ammiri di lui cos'è la cosa tra virgolette cosa ammira di Gasperini in generale ecco magari come allenatore come persona c'è una cosa che ammiri in particolare sicuramente la sua coerenza dal punto di vista tattico è un allenatore che ha sempre dato dell'identità ben precisa alle proprie squadre che ha sempre dato avanti per la sua strada che è chiaramente evoluto e migliorato nel corso del tempo non gli occuperei niente perché ognuno di noi ha le proprie caratteristiche coerenza senza ombra di dubbio con il suo 3-4-1-2 o 3-4-2-1 le sue squadre sono sempre state quasi impostate con questo modulo cercando facendo del gioco e della proposizione del gioco sempre il suo mantra e su questo non non si transige bisogna ammetterlo l'Atalanta ci sono stati anni negli ultimi anni che veramente ha fatto un calcio bellissimo da vedersi un po' meno magari nelle ultime due stagioni però sicuramente coerente con la sua linea sì esatto e rubargli qualcosa rubare di cosa ognuno di noi è fatto a modo suo no? cioè come io e Marietto sono fatto in un modo poi ci sono youtuber di altri canali che sono fatti in un altro ognuno ha il suo credo ha il suo modo di essere sicuramente è un collega che stimo molto prego Daniele buongiorno mi senti volevo chiedere un commento anche su Jovic nel senso che lei l'ha sempre stimolato ha sempre parlato di un giocatore che stava crescendo di condizione mi sembra di capire che col Frosinone abbia dato quella risposta anche perché era la terza partita poi se andiamo a contare da titolare se può essere un'indicazione anche per il proseguo della stagione e poi una piccola domanda su Reinders Musa domani potremo vedere uno dei due e c'è nel senso un modulo diverso una disposizione diversa rispetto alla parte del Frosinone grazie Jovic non ho dubbi che Jovic è un giocatore di qualità di talento deve lavorare deve essere intenso ci sono certe caratteristiche che nel calcio moderno non possono venire bene è l'intensità l'intensità cioè in un certo senso ti sta dando la chiave di quello che sta mancando in questo momento a Luca Jovic per poter essere quello di cui lui ha detto che è sicuramente un giocatore da grandi caratteristiche e che sicuramente hai dei numeri però l'intensità parole di stare dentro la partita non parlo solamente di intensità di gamba di pressione di aggressione attacco allo spazio parlo di intensità mentale l'intensità mentale quanto fa la mente? fa tantissimo se tu mentalmente ci sei in campo anche nei momenti di difficoltà che puoi avere fisico tu puoi utilizzare delle strategie io ricordo Zlatan Ibrahimovic le ultime due stagioni che fisicamente non era più Zlatan però utilizzava questa intensità l'intensità mentale che poi gli dava la possibilità anche non facendo più scatti non facendo niente trovare posto anche in campo laddove poteva essere importante la sua posizione e quindi è qua che tutto si muove quindi in questo momento probabilmente deve lavorare un po' di più da quel punto di vista Iovic però sicuramente le ultime partite io ho visto un ragazzo in crescita al di là del gol contro il Frosinone Luca se raggiunge se avrà la capacità di mantenere alto questo livello è un giocatore che sicuramente darà un grosso contributo alla squadra per quanto riguarda la posizione del centrocampo domani abbiamo un modo di stare in campo abbastanza certo poi è chiaro che teniamo conto anche di quello che faranno i nostri avversari sappiamo che sono avversari che ci vengono a prendere che vogliono essere aggressivi che vogliono essere forti nella pressione quindi dovremmo cercare di trovare le soluzioni adatte per superare la loro pressione Buongiorno Stefano quanto pesa Stefano Pioni non disporre di tutta la rosa specialmente in difesa si è dovuto ingegnare creando Teo Centrale l'altro giorno con il Frosinone con queste assenze in difesa specialmente perché per il resto penso che si possa sopperire facilmente insomma è una domanda un po' da doppio filo cioè io onestamente è vero il discorso della difesa si è dovuto reinventare un Teo grandissimo lì in mezzo quindi merito al mister e alla disponibilità di Teo però non è vero che poi in altre parti del campo a parte il centrocampo che credo è stato quello che sempre in un modo o nell'altro è stato abbiamo la coperta più lunga però davanti l'abbiamo visto nelle ultime settimane con le due giornate di squalifica di Giroud con le A.O fuori cioè è vero che il Milan ha fatto tre gol contro il Frosinone però si è visto che anche la manovra era completamente diversa quindi insomma vabbè sentiamo io credo che invece siano solamente delle opportunità per dimostrare il nostro valore per dimostrare la nostra collesione e per continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto nel senso che siamo sempre alla ricerca di trovare delle situazioni alle difficoltà che incontriamo strada facendo adesso andiamo da Sartori e poi Milan-Presse giusto? ok buongiorno mister io le chiedo come starra dei cronici che ultimamente non sta giocando tantissimo come a inizio stagione è una questione di condizioni fisiche oppure solo di scelte grazie ecco questa è una domanda tra bocchetto perché sappiamo benissimo che il Fenerbace è all'attacco per farsi dei servigi di Radekrunic e sembra che la cosa è ben incamminata per il ragazzo per andare in Turchia però la mettono da un punto di vista vedete cioè la farloccaggine dei giornalisti perché non andate diritti al punto ci girate attorno come la domanda che io farei sempre a Simoncello in Zaghello dov'è Zank? cioè le cose andate dirette eh sì la questione di condizione le sue le sue prestazioni sono state di buonissimo livello inizio adesso sta avendo un attimino un calo che è abbastanza normale nel senso che non si può avere sempre un giocatore al 100% e probabilmente in questo momento ci sono compagni che stanno a meglio di lui ecco quindi tanti che dicono il matrimonio la simbiosi Krunic mister Pioli come vedete lui fa le scelte in base alla condizione di chi ha e quando ha giocato di più perché probabilmente lui era presente e altri erano assenti adesso con il ritorno di Ben Nasser ovviamente c'è uno spazio in meno anche per Krunic perché Isma è un titolare Buongiorno mi riallaccio a quanto detto prima sull'emergenza difensiva e volevo chiederle più una questione dal punto di vista tattico al netto della crescita di Tomori in questi anni nella posizione dopo quanto fatto vedere da Teo Hernandez contro Frosinone è corretto pensare che un mancino naturale in quel ruolo sul centro-sinistra difensivo possa garantire benefici in quella posizione in fase di costruzione del gioco bella sicuramente nella fase di costruzione sicuramente avere un mancino che può imbucare che può cambiare gioco che può fare filtrante è sicuramente importante soprattutto nel calcio adesso dove poi a volte i centrali sono quelli che hanno un po' più di spazio un po' più di tempo per fare le giocate sì ma lo ha fatto bene tante volte anche Fic in quella posizione lì però sì l'ha fatto anche Fic Fic Ayoto Mori è vero mister però non ha la stessa esplosività di Teo Hernandez nel come si dice non tutti i mali vengono per nuocere nella problematica di non avere più centrali praticamente a parte Tomori e mettere Teo Hernandez si è scoperto un valore aggiunto che può dare proprio Teo Hernandez partendo da quella posizione ricordatevi quello che avevo detto subito dopo Milan-Fiorentina Milan-Frosinone scusate dove a differenza dei tagli che normalmente fa Teo Hernandez dalla sinistra imbucando verso il centro o andando sulla fascia sapendo che va in sovrapposizione con Rafa Leao quando parte dal centro praticamente va per linea retta quindi non deve zizzagare cioè va proprio come un treno e abbiamo visto che è una posizione interessante per Teo che poi nel futuro non si sa mai possa ritornare utile per altre questioni o in certe partite di un certo livello però ovviamente poi cosa rimane quel buco a sinistra che bisogna in ogni caso colmare però Teo sicuramente quando abbiamo la palla ci dà delle soluzioni diverse Salvatore Bellomo di Olmilano salve mister salve appena rientrato dal brutto infortunio Ismael Bennazeri che ha già giocato più di dieci minuti contro il Frosinone ai microfoni del club lui si è posto un bello obiettivo un grande obiettivo ovvero vincere il pallone d'oro le chiedo crede che Ismael abbia le potenzialità per poterlo vincere in futuro e da che basi deve ripartire per tornare ai suoi livelli che sono grandi livelli grazie Isma Bennazer è stato eletto il più gran il giocatore più forte dell'ultima Coppa d'Africa ricordiamocelo inizio da questa base sulle capacità e sulle qualità e sulle caratteristiche di Ismael non ci sono non ci sono dubbi che sia un giocatore di altissimo livello è anche giusto credo che un giocatore si ponga degli obiettivi così così importanti vuol dire che e poi dopo questi obiettivi qua o comunque queste valutazioni che hai di te stesso poi le devi proporre nel quotidiano tutte le volte che viene chiamato in causa ma Ismael ha grande personalità ha grande capacità adesso deve ritrovare solamente le migliori condizioni ha fatto un recupero eccezionale senza senza inciampi senza difficoltà ed è difficile dopo un'operazione così invece lui ha avuto grandissima costanza come sempre perché è un grandissimo lavoratore un grandissimo professionista quindi adesso lo aspettiamo che ritorna al 100% per poi avere delle sue situazioni insieme assolutamente e l'ho detto prima la ciliegina sulla torta di questo di questo calciomercato non è chi andremo a comprare è il ritorno di Ismael Benasser un giocatore del genere lì in mezzo ragazzi vedrete come cambiano le frittatine da adesso in poi una volta che lui trova la sua condizione al 100% come dice il mister come fai a togliere Ismael Benasser come fai a togliere Mignon o Teo Hernandez o Leao sono giocatori che si sa o Tomori sono punti fermi della squadra e Benasser è un punto fermo di questo Milan è lo scheletro di questo Milan tu puoi cambiare anche altri giocatori però per ruolo noi abbiamo giocatori come Mignon Teo Hernandez Tomori Benasser ormai Reinder si può dire perché gioca sempre ma anche Loftucic Leao Giroud cioè abbiamo già Opulisic abbiamo già 8-9 giocatori Calabria a destra è vero c'è anche Calabria quando c'era Ciao però lì in mezzo purtroppo c'è questo discorso anche degli infortuni quindi siamo un po' Chi? Ciao? Chiaer? Siamo sempre lì Calulu quando c'era Pellegrino invece ci sono come 8-9 giocatori che sono lo scheletro e sono i titolari di questo Milan e Benasser non si discute è assolutamente un titolare Prego Buongiorno mister lì in alto alla classifica c'è chi gioca un pochino meglio c'è chi gioca meno bene e c'è chi spesso la risolve anche su un calcio piazzato per il Milan non è o un calcio di rigore a buon intenditore poche parole troppo un tabù il calcio piazzato sia a favore che contro che possiamo far meglio sicuramente sì ci stiamo lavorando e dobbiamo ottenere risultati migliori perché sono situazioni che sappiamo molto importanti soprattutto nel sbloccare le partite le partite poi cambiano dal punto di vista tattico cambiano dal punto di vista mentale quindi sicuramente è un nostro obiettivo prego prego buongiorno mister non so se lei è appassionato oppure no però c'è una frase di Batman che mi ha un po' colpito mi ha fatto pensare un po' a lei è un po' complicata beh forte che gli faccio una domanda di Batman quando dall'altra parte ci sono i Transformers scusate oggi ho volevo rimanere serio però questo mi tira fuori Batman e mi vengono in mente i Transformers scusate ecco una domanda che io farei nella conferenza staffa di Simone Inzaghi a parte dov'è Zang ma scusi domani diventerete i supereroi contro chi giocatore contro Mazinga Z vabbè quindi spero che riesca a esprimerla bene però e lei riesca a seguire la frase è semplice Batman mi piace la frase è semplice alla fine Batman gli piace esatto alla fine c'è una frase che dice o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo ora per il sentiment che purtroppo in questo momento c'è un po' esterno volevo sapere se ci si rivede un pochino e anche soprattutto perché quel significato di questa frase alla fine di Batman è che lui si prende delle colpe che non sono le sue per il bene generale della città di Gotham lei si sente un po' un capo rispiettore si sente prendersi un po' delle colpe che non sono le sue per il bene superiore del Milan e magari dell'ambiente in generale sentito la domanda no no nel senso io sono allenatore del Milan appunto io sono allenatore del Milan non sono Batman che mi devo prendere responsabilità le colpe di quello che succede su Gotham City come allenatore del Milan ho delle responsabilità e come allenatore del Milan ho degli onori e degli oneri purtroppo per la malignità di tanti ho avuto tanti oneri in quest'ultima stagione e io come sempre ho difeso a spada tratta invece l'operato del mister che secondo me è un grande mister mi sento né un eroe né una vittima mi sento una torre del Milan che cerca tutti i giorni di fare un ottimo lavoro e di mettere in condizione la propria squadra di rendere al massimo poi come sempre ci sono volte che ci si riesce altre volte che no ovviamente Carlo adesso devi superare questa frase no no Carlo Pelegati avevo una domanda proprio di calcio raramente una cosa pratica Ocafor potrebbe essere già una sorpresa domani dico sorpresa perché magari un po' in anticipo riguardo al programma che sembrava e riguardo Benasser la terza domanda su Benasser se quando nella sua testa potrebbe essere titolare Ocafor no per domani ha un'ultima valutazione sabato sta facendo bene cioè domani va l'ultima valutazione Ocafor non ci sarà domani ovviamente poi dopo sarà molto vicino il suo oriente ma non domani Ismael credo credo presto ma poi dipenderà da quello che vedrò dipenderà dal tipo di partito che andiamo a fare ma non credo che passerà tantissimo tempo ecco invece volevo chiederle questo quindi su Ismael Benasser sta confermando che comunque lui sta lavorando bene ovviamente e presto sarà al top della condizione ricordiamoci che comunque viene da sette mesi in attività ha ripreso da poco però tempo al tempo ma già il fatto di aver recuperato ante de tempo come si dice qua prima del tempo è tanta roba c'è una discussione dicono parto dalle tre partite Atalanta Newcastle e Monza il modo di giocare di Stefano Pioli propositivo coraggioso intenso magari non può essere adatto è una questione alle tre partite perché non è facile giocare a quei livelli tante partite soprattutto le tre avete sentito c'è un problema tattico di cui secondo Carlo Pelegatti non si può giocare a quei livelli di quello che chiede Pioli in queste tre partite o quelle tre partite non ho capito che il Milan ha tutte le possibilità per secondo ovviamente ecco volevo e allora dicono meglio il quarto perché almeno ha più chance di scudetto ecco questa è una di quelle ecco questa sia una domanda sicuramente interessante perché è diventata anche una diatriba del mondo Milan se piuttosto che andare agli ottavi di finale di Champions League è meglio arrivare quarti quindi il terzo non considerarlo neanche come Europa League da parte mia vi ho detto la mia idea la mia opinione che secondo me è giusto che il Milan vinca contro il Newcastle e se dovessimo andare per quello che succederà poi dal Dortmund contro il Paris Saint Germain in Europa League ce la giochiamo a testa alta o a cortomuso siamo sempre il Milan volevo chiedere su questi due punti che cosa ne pensa lei ecco che dice Pioli io credo che invece il nostro calcio abbia delle radici ben profonde delle conoscenze certe per i nostri giocatori del calcio che ci piace del calcio che vogliamo giocare non credo che sia un calcio troppo intenso che non si possa reggere per tre partite però credo che mai come in questo momento dobbiamo dividere le due cose e noi vogliamo ripeto siamo partiti con un obiettivo bel chiaro essere competitivi in campionato e competitivi in Europa quindi cercheremo di centrare entrambe le cose con le nostre caratteristiche con le nostre qualità e con le nostre idee quindi l'obiettivo è campionato ed Europa e non c'è un'Europa di classe c'è un'Europa fatta di squadre che possono essere più stimolanti giocarci piuttosto che altre però non è che io sputo su un eventuale Europa League ragazzi anche perché se tu vinci l'Europa League A hai già il posto assicurato come prima fascia in Champions League l'anno dopo e B ti giochi subito un'altra competizione che sarebbe la finale di Supercoppa Europea contro la squadra vincente di Champions League quindi valutiamo a 360 gradi non solo il discorso della rosa in sé ma è anche una questione di prestigio vincere un trofeo internazionale è sempre importante e adesso diamo la parola e non ho parlato di conference per quanto riguarda conference league probabilmente posso anche darvi ragione che è un po' più una coppetta diciamo salvagente ma chi l'ha vinta in questi ultimi anni la Roma che non aveva vinto nulla in altre competizioni il West Ham che ha vinto contro la Fiorentina quindi il livello si vede che è più basso però in Europa League ci sono squadre come Liverpool in Marsiglia l'Ajax cioè squadre che hanno dei blasoni è anche una storia e le altre che scenderanno poi anche dalla Champions non dimentichiamo grazie Laura mister partiamo dalla nostra membership di YouTube Marco ha visto per la prima volta Reinders in cabina di regia con il Frosinone le chiede a gioco lungo come può integrarsi in quella zona a lungo andare con Isma non era la prima volta perché credo che Tizia ossia come possono integrarsi la domanda che viene fatta dal pubblico di Milan Channel Milan TV è Isma insieme a Reinders in mezzo al campo sentiamo che dice cosa dice anche col PSG sto parlando tanto con Isma in questi giorni in questo periodo che magari non era mentalmente così occupato dagli allenamenti per la sua posizione abbiamo le idee chiare su come utilizzarlo e tra l'altro credo sempre che tra giocatori intelligenti non sia mai un problema farli giocare insieme sempre da YouTube ecco punto ti risponde semplicemente tra giocatori intelligenti non c'è difficoltà a farli giocare insieme chiaro no? le chiede invece questo lei aveva diverse alternative per il ruolo di difensore centrale con il Frosinone rispetto alle altre alternative cosa le ha dato in più Teo cosa l'ha fatta pensare in meglio Teo rispetto al panorama il valore del giocatore e la convenzione del giocatore di poter essere utile alla squadra anche in quella posizione invece mister dalla nostra chat di Twitch avete capito no? cioè il valore di Teo che può giocare anche in quella posizione ed è tanta roba ecco Roberto le chiede un po' lei un po' ha già risposto però lui rimane un po' su De Ketelare le chiede ecco se un De Ketelare al meglio ha già pensato al massimo ha già pensato a come a come arginarlo a come affrontarlo concretamente nella partita Arginare De Ketelare è chiaro che questi giorni abbiamo preparato la partita abbiamo visto le situazioni offensive dell'Atalanta in che posizione potrebbe giocare Ciasse quindi i giocatori che si troveranno in quella posizione uno già lo conoscono e due sanno cosa aspettarsi da questo tipo di giocatore grazie e buon lavoro a tutti bene con questa domanda si conclude questa conferenza stampa di mister Pioli che come sempre è molto pagato molto sereno risponde in maniera molto educata professionale a differenza ripeto di quelli che ho citato all'inizio fammi sapere in basso quali sono i punti che più ti hanno stimolato che ti hanno toccato di questa conferenza stampa cercheremo di analizzare poi anche insieme la stessa conferenza stampa in in live stasera cercherò di farla più o meno intorno sei e mezza sette ovviamente per non accavallarmi a Juve Napoli che inizia alle 20.45 quindi un'oretta di live dove aprirò la chat a chiunque che possa dire la propria e vari eventuali chiunque può dire la sua lasceremo questa open questa apertura della della chat e niente come sempre ti ringrazio per la sconto fino in fondo ti auguro un felice venerdì una felice immacolata e noi ci vediamo più tardi per una live con voi che sarete i protagonisti di domande riflessioni tutte vi voglio tutti poi in live e in chat e a fine Juve Napoli cercherò di fare una mia piccola reaction di questa partita che diciamo è la partita di cartello di questa giornata un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici grazie per i like le iscrizioni gli abbonamenti a 099 e noi ci vediamo più tardi sempre forza mira ovunque comunque ciao